Sono Pavela Miloresi, interpreto Claudia, la madre di Emilia Galotti, una donna sicuramente con un matrimonio un po' infelice, con un marito molto noioso che la riprovera sempre, perché lei sempre chiede scusa, dice sempre che non è colpa sua, dal quale probabilmente è un po' fuggita, sabbioneta, per arrivare a Guastalla, che allora era veramente il centro del mondo, dove sapeva la residenza appunto, il principe, la corte dei Gonzaga, le famiglie nobili eccetera, però sicuramente diciamo che ha un po' esposto la figlia, non solo all'Udibrio perché erano un po' prese in giro, perché erano ritenute un po' delle parvenues, cioè che volevano essere, non erano, non erano nobili, ma insomma poi anche alle grinfie di quest'uomo che è abituato a manipolare la vita degli altri, soprattutto delle donne e quindi Emilia casca in questa rete. Sicuramente diciamo una parte della causa di questo è dovuta anche a questa ambizione materna, a questo desiderio di frequentare i salotti, insomma alla noia che aveva da questa vita matrimoniale, una madre malamente ambiziosa.